Hai parlato anche dell'eventualità di una costruzione di un impianto per il Milan fuori dal confine di Milano? Presidente, mi ha presentato una serie di ipotesi che verranno tutte valutate. Io credo che la cosa doverosa sia dare una risposta, una valutazione, un studio di quelle che sono le proposte del Milan e poi prendere una decisione. Quello che è importante è che il Milan, come anche l'Inter per carità, hanno diritto di avere uno stadio di nuova generazione perché contribuisce ad aumentare la competitività delle squadre.